Due scuole, due città diverse, due gruppi di studenti vittime dello stesso misterioso malessere. Ha del paradossale l'episodio capitato questa mattina al Liceo Artistico Nervi di Ravenna e alla Scuola Media Geocenci di Riccione, dove quasi in contemporanea diversi studenti si sono sentiti male accusando forte irritazione e bruciore agli occhi, tanto da rendersi necessaria l'evacuazione totale di entrambi gli edifici. I primi casi di quella che per il momento è stata definita come una generica intossicazione si sono verificati intorno alle 10.30 nella Scuola di Riccione, quando gli studenti hanno cominciato, uno dopo l'altro, a sentirsi male. Sul posto sono subito giunte le ambulanze, i tecnici ARPAE ed un nucleo di vigili del fuoco specializzato nella gestione di questo tipo di emergenze. Pochi minuti dopo è stata la volta delle forze di polizia che si sono prese carico della gestione dell'evacuazione dell'edificio. Al pronto soccorso sono stati portati circa 20 ragazzi tutti i tredicenni assieme ad un insegnante e anche se non versano in condizioni preoccupanti, sono stati trattenuti per i dovuti controlli. Neanche il tempo di capire cosa è successo ed ecco il secondo allarme. Al liceo di Ravenna sta succedendo la stessa cosa. I ragazzi immediatamente sono usciti fuori dalle aule e sono andate nel punto di raccolta che è nel nostro cortile. Pertanto abbiamo limitato al massimo le conseguenze. soltanto tre ragazze si sono sentite male e che sono andate al pronto soccorso. Ora ovviamente entrambi gli edifici sono nelle mani dei tecnici specializzati che stanno cercando di fare luce sulla vicenda. C'è un'indagine in corso e tutto quello che possiamo fare per essere di supporto alle forze dell'ordine lo stiamo facendo ovviamente.